Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una proposta di legge di iniziativa regionale e rivolta alle Camere per il sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale. 27 voti favorevoli di Italia Viva, Movimento 5 Stelle, 11 quelli contrari, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Noi abbiamo voluto presentare questa proposta di legge per mandare un messaggio chiaro alle cittadine e ai cittadini. Noi abbiamo bisogno di più sanità pubblica. Per avere bisogno di più sanità pubblica è necessario che il governo finanzi maggiormente le regioni. Certo, noi possiamo migliorare il governo della sanità regionale ma oggi con questa proposta di legge chiediamo che almeno il 7,5% del prodotto interno lordo sia destinato al Fondo Sanitario Nazionale. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi con queste risorse in più possiamo lavorare per migliorare i servizi, ridurre le liste d'attesa, possiamo lavorare per offrire una sanità di prossimità migliore, insomma possiamo offrire ai cittadini un servizio sanitario migliore. Questa proposta di legge si dice che il sistema sanitario pubblico in Toscana ma in Italia in generale è in pericolo e servono due misure urgenti. Una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, che ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quelli europei bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici, ma anche quando li troviamo oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare, che ricordo ha il più alto tasso di medici, dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. L'atto è frutto dell'unificazione di due proposte di legge, una presentata dall'Aggiunta regionale, una da numerosi consiglieri del gruppo PD, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. Siamo molto soddisfatti per l'approvazione di questa proposta di legge che abbiamo fatto per mettere in sicurezza la sanità pubblica e quindi la sanità universale a tutela della salute di tutti i cittadini, tenendo anche conto dell'indice di inflazione e tenendo anche conto dell'anzianità della popolazione. Abbiamo fatto questa proposta in sintonia con altre regioni dove già la proposta di legge è stata o sarà approvata. Dispiace che nell'ambito della votazione in Consiglio regionale della Toscana la minoranza di centro-destra si sia voluta distinguere e ha votato contro, tenendo più di conto di quelle che sono le impostazioni e le ragioni di partito che non quelle delle esigenze di salute di tutti i toscani e di tutte le toscane. Ma Italia Viva con forza ha chiesto che sulla sanità venissero impiegate le risorse del Messe Sanitario. Oggi a me verrebbe da chiedere perché nei mesi scorsi non si è voluto richiedere l'utilizzo di queste risorse. Avremmo potuto riterizzare, oggi avremmo a disposizione 40 miliardi in più da poter gestire sulla sanità. È evidente che non lo si è voluto fare, però con forza si è battuta anche in questo Consiglio regionale per far capire che servivano quelle risorse, servivano per il personale, serviva per migliorare la qualità del livello dei servizi sociali assistenziali, migliori servizi in termini qualitativi e in termini soprattutto assistenziali rispetto ai cittadini toscani. Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale. Ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da Gimbe a riguardo. Negli ultimi dieci anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore. Critiche le opposizioni. Fratelli d'Italia ricorda la proposta di risoluzione approvata nel 2022 dal Consiglio, dove non c'era alcun riferimento al 7,5%. Per la Lega i soldi devono essere spesi in modo appropriato e razionale. Non sono credibili perché soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine, dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente che questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il Governo. Il Governo è il Governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi. Il Governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista che noi non possiamo che respingere. Una visione completamente diversa anche partendo dalle premesse perché in fin dei conti più soldi in sanità ma anche più addetti ai lavori sarebbe sempre auspicabile. Ma è importante capire queste risorse come vengono spese. Quindi una programmazione, una propriatezza della spesa è fondamentale perché se no diventa un pozzo senza fondo. Cioè più soldi dai e più le spendi senza un criterio. E poi una proposta di legge deve essere assolutamente avere un corrispettivo come vengono coperti quei soldi. Per cui ci vogliono cifre concrete. Si è svolto presso l'auditorium del Consiglio regionale il convegno L'Italia del 43, l'età dell'incertezza. Promosso dal Consiglio regionale, dall'Istituto Ferruccio Parri e dall'Istituto Storico Toscano per la Resistenza il convegno di studi ha esaminato il periodo di incertezza che attraversò il nostro paese nel passaggio tra il crollo del fascismo e l'attesa di un dopo da definire che ha nell'armistizio una data simbolica. Il convegno è stato introdotto dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo. È stato un anno di grande incertezza per le cittadine e i cittadini italiani. Il 1943 è stato l'anno in cui le italiane e gli italiani hanno capito davvero di essere in guerra e che quella guerra la stavano perdendo. Il 1943 segna due date fondamentali, il 25 di luglio la caduta di Mussolini e l'8 di settembre, il giorno dell'armistizio. Il 1943 è l'anno in cui sbarcarono i primi alleati in Sicilia. Il 1943 purtroppo è l'anno in cui arrivarono le truppe naziste a controllare il territorio italiano, la Repubblica di Salò. Il 1943 è l'anno in cui nacquero i primi movimenti partigiani di resistenza e la Toscana ne fu centrale. Il 1943 è un anno che va studiato e conosciuto di più perché ha cambiato la storia del nostro Paese. Allora noi quest'anno, con l'avanzo di amministrazione in piccola parte, perché poi vogliamo lavorare anche nel sostegno alle popolazioni, alle amministrazioni locali colpite dall'alluvione. Lavoreremo proprio per fare iniziative di memoria, di memoria rivolte all'ottantesimo anniversario del 2024 delle strazi nazi fasciste e all'iniziativa relativa agli 80 anni della liberazione, perché c'è bisogno di memoria. La memoria è come un fiore e va coltivato, va innaffiato giorno dopo giorno. Ecco perché queste iniziative sono importanti, hanno il nostro sostegno e il nostro patrocino. Per gli studiosi intervenuti, Giuseppe Matulli, presidente dell'Istituto Storico Toscano per la Resistenza e il presidente dell'Istituto Parri, Paolo Pezzino. La panoramica delle due giornate è molto, infatti io sono molto grato a chi l'ha preparata all'Istituto Parri e ai nostri dell'Istituto Storico della Resistenza, perché i tre aspetti del 43, cioè come ci hanno visto dall'estero in questo anno che è stato l'anno fondamentale, l'anno del cambiamento, è lo stato sospeso, qualcuno parla del 43 come la morte dello Stato, ma è anche la rinascita dello Stato perché è dal 43 che riparte poi il fondamento della democrazia. Quindi il ripensare a questo pezzo di storia fondamentale per il nostro Paese, sottolineandolo che quella voletà dell'incertezza, in un momento nel quale il dato fondamentale del tempo che viviamo è l'incertezza, è di buon auspicio perché se l'incertezza si dovesse risolvere oggi come si risolse allora, saremo tutti contenti. È un convegno che mostra le nuove ricerche sull'8 settembre. Noi siamo passati da una situazione in cui l'8 settembre era un momento di vergogna nazionale ha una più attenta valutazione in cui la vergogna è tutta della monarchia e del governo Badoglio, ma in realtà l'esercito e la società italiana reagiscono come possono all'abbandono che è stato fatto dalle autorità e l'8 settembre in questo senso può segnare anche uno spartiacco e l'inizio di un'attività di resistenza e di pressa di coscienza. Un libro che racconta la Toscana del Novecento, le sue complessità e le sue contraddizioni, dalla campagna senese passando per Firenze fino ad arrivare alla Val di Nievole. È il romanzo I figli degli altri di Paolo Ricci, presentato a Palazzo del Pegaso. Presenti il consigliere regionale Marco Nicolai, l'autore, e Fabio Gimignani di Jolly Rogers, la casa editrice che ha pubblicato il volume. Devo dire che l'autore ha avuto una idea molto interessante rispetto all'ambientazione di questo romanzo. Ho conosciuto Paolo Ricci da amministratore e poi anche come funzionario e vederlo in veste d'autore devo dire che mi ha colpito. Però anche da autore di un romanzo devo dire che ha colto nel segno di una storia molto forte, ambientata nella nostra regione, in un periodo molto intenso della nostra storia, un periodo di ripartenza, di rinascita, ma anche di forti contraddizioni. E penso che Paolo Ricci con questo suo romanzo lo descriva appieno e penso sia appunto una opera importante che racconta la Toscana e racconta una parte della nostra storia fatta da chi in vari modi, da amministratore e da funzionario pubblico sicuramente ha conosciuto e diciamo non solo il territorio ma insomma ha dimostrato con questo libro anche di avere una dote di scrittore che non pensavo che avesse. Quindi un consiglio alla lettura per tutti. Figli degli altri è il secondo libro, il secondo romanzo che io ho pubblicato che ha radici completamente in Toscana. In particolare anche questo che secondo me è più importante nasce nella provincia di Siena, nella campagna senese. Il primo nasceva in particolare a Murlo e poi a Siena, questo invece a Buon Convento a Siena e poi corre passando per Etola, per Firenze, fino alla campagna, alla Piana Pistoiese e alla Val di Nievole, in particolare a Borgabuggiano, dove termina. Una parte di questo romanzo è reale, è vera e racconta diverse cose. La prima cosa che racconta è la povertà del primo novecento, proprio del 1901, quando comincia il romanzo, è l'evoluzione drammatica di una giovane povera che vive in campagna e che lavora in campagna e poi si trova, a causa di un abuso, praticamente a rimanere in stato interessante e a fare un figlio che poi non viene riconosciuto. Da lì nasce un percorso, il primo è di lei che si determina e riesce con tanta fatica a diventare ostetrica, allora si diceva levatrice, ed avere poi con lunghe peripezie anche legali, anche penali, a finire nella Val di Nievole o comunque a Lucca e nella Val di Nievole, perché era prima provincia di Lucca e poi diventa. L'altro è il vero figlio che in qualche modo, nei pieni anni sessanta, quindi la musica della Versilia, del bussolotto, del jazz, eccetera, un uomo che gioca, che ha giocato, che ha perso un po' di danaro, lui in qualche modo cerca di comprendere chi è sua madre. Questa è la storia, poi il finale non ve lo dico perché non avrebbe senso. Questo è i figli degli altri. Come casa editrice, come edizione Jolly Roger, visto che siamo una realtà locale, è un motivo veramente di orgoglio, un fiore all'occhiello, perché riuscire a pubblicare un libro che parla della Toscana e ne parla in maniera così estesa e in un lasso di tempo che va a coprire un secolo, è veramente, come dicevo, un punto d'orgoglio, perché poi è un Paolo Ricci che è un grandissimo ricercatore su queste cose qui e che racconta cose romanzate ma profondamente vere. Quindi per un editore è una bellissima soddisfazione. Grazie. Grazie.